Pozzuoli fa un passo in avanti in materia di raccolta differenziata. Le aree di conferimento, spazi attrezzati del comune in cui possono essere portati vari tipi di rifiuti, potranno da adesso in poi ricevere oltre ai materiali già conferiti dalla loro apertura, anche la frazione umida, il tessile dismesso, gli oli esausti e le frazioni inerti, piccole quantità di materiale di risulta. Pozzuoli attualmente possiede quattro aree di conferimento, due nel quartiere Monte Ruscello, una a Rione Toiano e una a Pozzuoli Alta, in via Vecchia delle Vigne. Queste d'ora in poi potranno avere un impatto più forte, specialmente per la possibilità di conferire la frazione dell'umido. Chiunque potrà recarsi quindi alle suddette aree, che sono aperte tutti i giorni fino alle 13.30, e conferire i propri rifiuti. Un'azione equista che se fatta in massa aumenterà le percentuali di differenziata. Ma Pozzuoli ha deciso di fare di più. La raccolta rifiuti non si limita alle sue aree di conferimento. Si sta potenziando infatti anche la raccolta rifiuti porta a porta. L'obiettivo è quello di estendere questo servizio anche ai quartieri periferici della città, come Toiano e Monte Ruscello. Pozzuoli sta potenziando la raccolta differenziata in tutte le zone più importanti del Comune di Pozzuoli. Stiamo cercando di estendere e potenziare qui a Rione Toiano, che è un rione molto popoloso, tutti lo sanno. Nonché poi a Monte Ruscello, anche perché anche lì ci sono centinaia e centinaia di abitazioni con persone che possono certamente avere problemi con la differenziata. Noi stiamo potenziando anche il controllo e la vigilanza in tutta l'area del lungomare, specialmente in Via Napoli, perché lì ci siamo accorti che numerosi privati, anche esercenti di attività commerciali, sono abituati a scaricare in strada tutto quello che possono scaricare. Ciò certamente sta creando dei problemi di visibilità e di vivibilità. Pugno duro quindi con chi trasgredisce? Pugno duro, senza alcune pietà. Con questo nuovo step, quindi, il 50-60% della popolazione sarà raggiunta dal porta a porta, mentre il restante potrà collaborare attivamente portando i propri rifiuti nelle nuove aree di conferimento. Una doppiazione, quindi, quella del Comune di Pozzuoli, per cercare di mettere ormai fine all'annosa questione rifiuti. Pugno duro, senza alcune pietà.